buongiorno oggi continueremo ovviamente lavorare sulla ricorsione facendo un altro esercizio un secondo esercizio come vi dicevo molto diciamo così del contenuti che ci dovremmo imparare sul tema della ricorsione li apprenderemo attraverso una serie di esercizi perché è così che si mettono in pratica quei quattro principi base che abbiamo visto prima che però diciamo così dal punto di vista teorico sembrano semplici ma poi dal punto di vista pratico applicativo richiedono molte molte specificità e molti casi particolari per poter essere messi in gioco allora riprendiamo il capitolo ricorsione e oggi parliamo di un esercizio che è questo che è quello della ricerca di anagrammi all'interno di una parola quindi il problema è molto semplice data una parola trovare tutti i possibili anagrammi di quella parola in pratica è un esercizio puramente combinatorio c'è dato un insieme di elementi e trovare tutte le possibili permutazioni di quell'elemento e noi sappiamo già dal calcolo combinatorio che il numero di permutazioni di un insieme di n elementi distinti tra di loro è esattamente n fattoriale dov'è n numero di elementi insisto sul distinti perché le parole possono contenere più volte la stessa lettera e ovviamente casa con due a messe così e casa con due a scambiati di posto è sempre casa quindi è sempre la stessa parola e quindi non deve contare due volte come se invece la prima e la seconda fosse distinte quindi questo però è una complicazione successiva per il momento non ci pensiamo pensiamo una parola come dog tre lettere molto semplice che ha questi tre fattoriale cioè sei possibili anagrammi ecco come possiamo affrontare il l'esercizio come possiamo affrontare il problema allora anche qua ragioniamo sempre in termini di soluzione parziale che via via viene costruita un pezzettino per volta durante la la discesa ricorsiva quindi io suddivido il mio problema dicendo la a un certo punto ho già costruito una parte della mia del mio anagramma della parola che voglio ottenere e in particolare questa parola è inizialmente vuota cioè quando inizio la ricorsione quanto della mia parola anagrammata è già disponibile quanto ne conosco già nulla non conosco ancora nulla e viceversa ho ancora tre lettere che sono tutte le lettere della parola che non ho ancora usato perché chiaramente io costruisco un anagramma prendendo una lettera le lettere della parola esistente prendendo queste lettere una per volta e una volta che ho preso una lettera questa stessa lettera non può essere ripresa quindi in qualche modo divido il mio problema ricorsivo separando la parte di anagramma che ho già costruito dal bacino di lettere che posso considerare per poterla costruire questo livello zero diciamo perché ho finora zero lettere già facente parte parte della mia parola poi posso proseguire dicendo a livello 1 livello 1 dovrà occuparsi di impostare la prima lettera al primo livello di ricorsione mi chiederò guarda io ho tre lettere possibili la d la o la g e quindi farò tre chiamate ricorsive una in cui ho deciso che la prima lettera sarà d la seconda in cui ho deciso che la prima lettera della parola risultante sarà la o e la terza in cui ho deciso che la prima lettera della parola risultante sarà la g deciso come sempre in ricorsione provvisoriamente nel senso che io prendo questa decisione e poi faccio una chiamata ricorsiva per poter valutare quali sono sotto nei grammi di ricorsione successivi le conseguenze di questa scelta quindi è sempre una decisione che ha più la natura del tentativo che non della decisione definitiva e quindi in un determinato livello ricorsivo cioè a livello successivo a livello 1 mi dicono che hai già una lettera definita il tuo insieme di lettere possibili sia ridotto non è più d o g ma solamente o g perché la d ovviamente l'ho già presa e quindi questo livello di ricorsione si pone il problema di cosa mettere come seconda lettera quindi livello 1 vuol dire che ho già 1 come lunghezza definita e dovrò scegliere l'elemento numero 1 cioè il secondo della parola che sto costruendo e questo ovviamente lo posso fare ricorsivamente a questo punto la chiamata del livello 1 a partire dalla lettera d avrà due alternative o e g e quindi provo prima la o e provo dopo la g provare prima la o significa attivare una chiamata ricorsiva in cui la parola già costruita è d o e le lettere ancora da usare sono solamente la g e la seconda chiamata ricorsiva sarà la chiamata nella quale la parte di parola già costruita è d g e la parte invece ancora da costruire comprende solamente la lettera o e quindi a questo qui ci siamo a livello di ricorsione 2 perché abbiamo già due lettere messe a posto ipoteticamente ovviamente e ce ne rimane ancora una allora possiamo fare ancora un livello di ricorsione e a questo punto di o che cosa posso aggiungere solamente g è l'unica alternativa che ho e quindi farò una chiamata ricorsiva unica vedete che in questo caso l'albero di ricorsione via via si assottiglia cioè ogni livello che scendo le scelte che posso fare diventano minori fino a quando arrivo al caso terminale in cui non ho più scelte da fare allora questo punto o appunto un caso terminale cioè una parola che è un valido anagramma della parola di partenza quindi questa parola fa parte del mio risultato non farò ulteriori ricorsioni perché non ho ulteriori elementi da aggiungere quindi potrò tornare indietro quindi fare il mio return della funzione che tornerà a questa funzione che non ha altre chiamate da fare e quindi si ferma torna anche essa quindi ritorna al livello superiore vedrà che questa chiamata abbiamo provato la o abbiamo visto che cosa è successo torniamo su proviamo la g e vediamo che cosa succederà provare la g significa partire dalla stringa di g e decidere che l'unica aggiunta possibile sarà la o e quindi passare a livello successivo con la stringa di g o questa di g o è un caso terminale perché non c'è più nulla da fare quindi questo va salvata tra gli anagrammi possibili finito questo anagramma torno a livello superiore a livello superiore non ho altre alternative da testare perché l'unica alternativa che avevo la o l'ho già usata e quindi tornerò a livello superiore non ho altre alternative da testare neppure qua perché la o l'avevo già testata e ho già visto tutte le sue conseguenze in particolare mi ha portato l'anagramma dog la g l'ho già testata e ho già visto tutte le sue conseguenze in particolare mi ha portato l'anagramma di g o e quindi anche questa chiamata ricorsiva ha finito il proprio lavoro e torna a proprio chiamante torna a livello 0 e a questo punto livello 0 dopo aver esaurito cosa succede provando a mettere come prima lettera la lettera d proseguirà con altre tentativi quindi provando a mettere come primo punto la lettera o oppure come primo punto la lettera g e così via quindi il percorso che si fa nell'albero di ricorsione essenzialmente è questo io parto da qui valuto cosa succede mettendo d come prima lettera e poi valuterò la o le conseguenze della o torno indietro torno indietro alternativa possibile g valuto ops valuto torno indietro torno indietro e a questo punto ritorno a livello 0 seconda alternativa la o la o avrà come prima alternativa la d e quindi valuto cosa succede provando la d poi torno su seconda alternativa la g valuto che cosa succede scegliendo la g torno su torno su torno su qui ho finito di g le due opzioni ritornerò al primo livello provando con la g come prima lettera e quindi esplorerò questo albero questa parte dell'albero di ricorsione di nuovo con lo stesso meccanismo quindi entro ed esco scusate mi sfugge sempre la mano sul tasto entro ed esco intanto che finalmente anche da livello 0 avrò provato le tre alternative le avrò esaurite tutte e tre e quindi potrò ritornare al mio procedura chiamante e in tutta questa operazione che cosa ho fatto? mi sono mi sarò tenuto traccia di quelli che erano i casi terminali 1 2 3 4 5 6 casi terminali me ne accorgo perché non ho altre alternative per proseguire ma me ne accorgo anche perché la lunghezza della parola costruita è 3 che era lunghezza facciamo così che devo ottenere e quindi quei 6 elementi sono i 6 risultati che ritornerò al mio programma chiamante quindi questa è la filosofia è una filosofia che useremo praticamente tutte le volte che dovremo risolvere dei problemi in cui il meccanismo di esplorazione delle soluzioni è un meccanismo di permutazioni cioè sono sempre i 3 elementi ma devo provare a metterli relativamente l'uno all'altro in tutti gli ordini possibili e immaginabili allora proviamo a passare a questo punto all'implementazione di questa idea di algoritmo ricorsivo mi sono già preparato un progetto Eclipse per abbreviare i tempi che si chiama Anagramma all'interno del quale ho definito già due classi quindi la prima parte grafica non la consideriamo per il momento ho creato un package model all'interno del quale ci sono due classi vediamo di ingrandirlo ecco fatto a pieno schermo all'interno del quale ci sono due classi una che è chiamata ricerca.java che è quella all'interno della quale lavoreremo che per ora è vuota e un'altra che si chiama test ricerca.java che è un programma di test per convincersi di come vogliamo che il nostro algoritmo funzioni quindi di fatto il programma di test creerà un oggetto della classe ricerca e poi chiederà subito quale sono gli anagrammi di una determinata stringa quindi la nostra chiave è un metodo che si chiama Anagrammi della classe ricerca che riceverà come parametro la stringa da anagrammare e restituirà come risultato una lista di stringhe che sarà l'elenco di tutti gli anagrammi quindi la nostra classe di test è molto semplice poi una volta che ce l'avremo potremo provare a fare altri esperimenti quindi iniziamo subito a lavorarci entrando nella classe ricerca e facendoci creare il metodo Anagrammi che riceve una stringa come parametro e restituisce un elenco di stringhe quindi genera, mettiamo pure il commento, genera tutti gli anagrammi anagrammi della parola specificata in ingresso la stringa di ingresso è parola da anagrammare e mentre, quindi stringhe, parola da anagrammare mentre la loro di ritorno è l'elenco di tutti gli anagrammi della parola data magari non chiamiamo stringa, chiamiamo parola così è più chiaro ok, questa è la definizione della nostra funzioncina per costruirla ovviamente ricordiamo a una funzione ricorsiva come abbiamo già fatto la volta scorsa la funzione ricorsiva tipicamente per essere chiamata ha bisogno di un ambiente nel quale siano già state preparate alcune variabili, alcune strutture dati con la quale la funzione ricorsiva può lavorare e quindi tipicamente sarà una funzione privata che possiamo chiamare ha senso chiamare solamente dall'interno della nostra classe ricerca questa funzione privata diciamo che non ha bisogno di ritornare nulla quasi sempre chiamiamola cerca ad esempio ecco e che cosa questa sarà la funzione ricorsiva vera e propria chiediamoci quali sono i parametri di lavoro di questa funzione allora per farlo io mi sposto al fondo del file e mi faccio le solite domande che ci facevamo sempre quindi la prima domanda è che cos'è la soluzione parziale che sto costruendo la soluzione parziale è una parte dell'anagramma già costruito già costruito in particolare i primi caratteri costruito anche una un'italiana in particolare i primi caratteri della parola quindi io decido di costruire l'anagramma da sinistra verso destra dalla prima lettera in avanti così come abbiamo visto nel nostro esempio graficamente e quindi il livello mi indica anche il numero di lettere di lettere di cui è composta la soluzione parziale man mano che vado avanti man mano che scendo di livello avrò più lettere che si aggiungono alla soluzione parziale che costruisco via via scendendo è anche vero che io ho una soluzione di partenza quindi l'obiettivo in qualche modo il dato di partenza è una parola di anagrammare da anagrammare diciamo di lunghezza n questa lunghezza n l'ho voluta citare perché la soluzione totale soluzione finale non è altro che una soluzione di lunghezza n ok? quando io trovo una soluzione parziale alla cui lunghezza n ho capito che sono in un caso terminale quindi nel caso terminale cosa devo fare nel caso terminale? devo salvare la soluzione trovata per poter restituire tutte perché alla fine le voglio restituire tutte adesso questo è il contesto generale entriamo nella ricorsione e ci chiediamo al determinato livello l'obiettivo di un livello di ricorsione qual è? è quello dicevamo di generare nuovi livelli nuove soluzioni parziali quindi io ho una soluzione parziale di livello 2 cioè ho già due lettere messe dovrò generare le soluzioni parziali di livello 3 cioè con tre lettere facendo come? provando a inserire e raggiungere tutte le lettere che non sono ancora state considerate prima quindi la generazione delle nuove soluzioni passa per il provare ad aggiungere una lettera tra quelle scegliendo virgola scegliendola tra quelle che non sono ancora state utilizzate utilizzate dove? nella soluzione parziale quindi quella soluzione parziale che mi arriva da questo specifico ramo di ricorsione perché magari quella lettera l'ho già usata in altri rami della soluzione ma per ora mi interessa solamente questa quindi questo vuol dire che come sempre la procedura ricorsiva riceverà una stringa che rappresenta la soluzione parziale riceverà un intero che rappresenta il livello in questo caso se vogliamo potremmo anche evitare di passare un livello come numero intero perché il livello è esattamente la lunghezza della stringa parziale però se vogliamo per chiarezza anche nostra manteniamo lo schema in ogni momento il livello è uguale a parziale punto length la lunghezza di parziale però un po' di chiarezza in più non guasta e poi però ho bisogno di sapere quali sono le parole le lettere scusate non ancora utilizzate e quindi mi riceverò un altro parametro che mi dice guarda queste sono le lettere che tu puoi ancora usare puoi ancora utilizzare quindi ad esempio potrebbe essere un insieme di lettere set di caratteri un insieme di caratteri che sono le lettere libere o lettere disponibili chiamiamola così le lettere non ancora utilizzate e che quindi sono disponibili quindi documentiamo questo questa è la procedura ricorsiva per il calcolo dell'anagramma gramma punto parziale indica la stringa costruita finora anagramma parte iniziale dell'anagramma costruito finora il livello il livello e il livello della ricorsione sempre uguale a parziale punto size length e disponibili e insieme delle lettere non ancora utilizzate io l'ho pensato come set ma adesso che ci ripenso un attimo forse è meglio usarlo come elenco come list per il semplice fatto che noi potremmo dover una gramma una parola in cui una lettera compare compare più di una volta e allora in questo caso se io la mettessi in un set verrebbe dimenticata quella lettera verrebbe cancellata perché la seconda volta che cerco di aggiungerla il set non me la lascia aggiungere quindi in questo caso è meno pulito dal punto di vista concettuale ma poi praticamente creerebbe dei problemi quindi in questo caso è un insieme rappresentato come una lista perché questo insieme può contenere dei duplicati ok allora questo metto un commento qua sotto così non mi da errori di sintassi ok e cominciamo a implementare questa funzione come sempre noi abbiamo i tre momenti della ricorsione da considerare che sono il caso generale il caso terminale e il caso iniziale e io le affronto quasi sempre in questo ordine quindi avrò una if che mi determina se sono nel caso terminale terminale poi avrò il caso normale e poi ovviamente il caso iniziale ce l'avrò dentro la procedura chiamante anagrammi che prepara la chiamata per il livello 0 essenzialmente ok ma per ora pensiamo al caso normale che è quello alla fine più semplice nel caso normale io devo generare diciamo così provare ad aggiungere alla soluzione parziale tutti i caratteri presenti presenti e tra i disponibili nulla di più quindi io devo iterare tra tutti i caratteri disponibili ch due punti disponibili e per ciascuno di essi dovrò costruire un tentativo nuovo che ottengo aggiungendo a parziale un singolo carattere in coda quindi dobbiamo concatenare alla soluzione parziale il carattere ch su cui stiamo iterando qui sto costruendo una nuova stringa da usare come tentativo parziale del livello successivo sto costruendo una nuova stringa e non sto modificando la soluzione parziale attuale perché essendo una di tipo string è una variabile immutabile quindi non posso modificare la stringa parziale e sarò obbligato a costruire una nuova stringa questo mi dà un vantaggio che non devo più fare backtracking ricordate che c'è il passo di backtracking in cui dovevo rimettere le cose a posto ripristinare la soluzione parziale così come l'avevo vista all'inizio del ciclo for dell'iterazione visto che in questo caso non sto toccando la soluzione parziale non la modifico non c'è più bisogno di fare backtracking e quindi a questo punto dovrò passare il lavoro alla procedura cerca del livello successivo cerca passandogli come parziale il nuovo tentativo dicendo che ho un livello più 1 quindi ho aggiunto una lettera in più rispetto a quella precedente e però dovrò passargli una lista di caratteri disponibili che è uguale a quella precedente meno meno il carattere ch che ho appena estratto allora noi abbiamo già imparato che è bene o meglio non è possibile modificare la lista disponibili mentre la stiamo iterando ricordate l'esercizio sul libretto voti in cui quando cercavamo di cancellare un voto mentre all'interno del ciclo questo generava un errore e quindi di nuovo ci sta dicendo che se vogliamo passare la lista dei nuovi disponibili dovrò costruire una nuova lista e cancellare da questa questo elemento e quindi costruiremo una nuova lista di caratteri diciamo così ridotta rimanenti che posso copiare da quelle disponibili a cui però subito dopo dovrò cancellare l'elemento che quindi arredigiavo punto utile a cui dovrò rimanenti subito cancellare l'elemento remove l'elemento ch quindi io ho scelto un carattere ricapitolando ho scelto un carattere questo carattere lo uso per arricchire il tentativo e per ridurre l'elenco di disponibili ridurre l'elenco disponibili di nuovo il tentativo l'ho dovuto creare una stringa nuova anziché modificare quella esistente perché essendo di tipo string è immutabile l'array list di disponibili non l'ho potuto modificare perché lo sto iterando e quindi l'iteratore non me lo lascerebbe fare e quindi ho dovuto costruire un'altra lista da cui rimuovere questo elemento questa operazione qua di ricopiare una lista all'interno di una procedura ricorsiva è un'operazione che ci piace poco perché rallenterà parecchio il programma dato il fatto che le procedure ricorsive vengono chiamate moltissime volte ma dell'efficienza ci occupiamo dopo per ora occupiamoci della funzionalità quindi a questo punto io ho un elenco dei caratteri rimanenti che posso passare come terzo parametro la mia procedura ricorsiva e questo esaurisce il caso generale la generazione delle nuove soluzioni il caso terminale perché ho esplorato tutti i caratteri disponibili ho provato uno a uno ad aggiungerli tenete presente che ad ogni iterazione io raggiungo creo un nuovo tentativo a partire però dalla stessa stringa parziale a cui aggiungerò un carattere diverso ogni volta diverso ok mettere il caso terminale è il caso in cui come faccio a capire se sono nel caso terminale è quello in cui il livello è uguale alla parola da cercare la lunghezza della parola da cercare oppure è quello in cui l'elenco dei caratteri disponibili sia vuoto quindi non c'è più nulla da cercare forse si fa prima disponibili punto size uguale a zero se non c'è più nulla da aggiungere sono nel caso terminale oppure è la stessa cosa che è livello uguale a parola punto length equivalente solo che parola in questa procedura qua non viene passata non è visibile mentre invece disponibile è visibile a questo punto cosa devo fare nel caso terminale beh semplicemente la stringa parziale è una soluzione totale e dovrò quindi salvarla tra l'elenco delle soluzioni possibili l'elenco delle soluzioni possibili al momento non ce l'ho ma non aspetta a me crearlo dovrò aspettare alla procedura anagrammi per creare diciamo una lista private list di string string con S maiuscola soluzione e quindi questa procedura anagrammi dovrà creare dis.soluzione uguale new array list di string e alla fine dovrà ritornare soluzione al chiamante quindi questa lista viene preparata dalla procedura frontale e io nel caso terminale dovrò semplicemente accodarci qualcosa dis.soluzione punto append ad scusate parziale e ho finito probabilmente la procedura ricorsiva se non ho dimenticato un pezzo quindi caso normale caso intermedio l'abbiamo risolto il caso terminale l'abbiamo risolto il caso iniziale l'avvio della ricorsione io devo preparare ovviamente tutte le variabili di cui la procedura ricorsiva ha bisogno una è la soluzione e l'ho già preparata qui parziale livello disponibili allora parziale inizierà come stringa vuota livello uguale 0 disponibili è un insieme di caratteri che contiene i singoli caratteri della stringa parola quindi devo prendere la parola e esploderla spezzarla nell'insieme di caratteri che la compongono quindi ci creiamo questa lista disponibili di caratteri come nuova array list di caratteri e poi travasiamo i singoli caratteri presenti dentro la stringa all'interno di questa lista quindi abbiamo iteriamo su tutta la lunghezza della parola i uguale 0 i minore di parola punto lente purtroppo dobbiamo fare un ciclo perché non esiste un metodo per convertire automaticamente una stringa in una collection e le stringhe non sono di per sé iterabili i più più quanto meno in java senza librerie aggiuntive allora disponibili punto add di parola punto char add i quindi faccio un ciclo sulla lunghezza della parola per ciascuna iterazione del ciclo estraggo il caratter nella posizione iesima e questo carattere lo aggiungo all'arrredi disponibili magari un'altra cosa utile che potremmo fare è convertire tutto in maiuscolo perché altrimenti se la parola passata fosse un po' in maiuscolo un po' in minuscolo sarebbe questa lettera maiuscola a metà della parola all'interno degli anagrammi sarebbe abbastanza antiestetica quindi un'altra cosa che possiamo fare può essere quella di parola uguale tu upper parola appunto tu upper tu upper case quindi prima di estrarre le varie lettere converte tutto in maiuscolo e poi travaso le lettere all'interno della lista a questo punto dovrei avere tutto ciò che serve per chiamare la procedura cerca quindi avvio la ricorsione chiamando la procedura cerca con i tre parametri soluzione parziale iniziale del livello 0 stringa vuota livello iniziale 0 lettere disponibili iniziali queste disponibili e questo dovrebbe essere la preparazione delle variabili in vista della chiamata del livello 0 della ricorsione e poi la soluzione che ritorniamo sarà quella che è stata via via costruita dal caroterminale della ricorsione stessa allora proviamo a vedere se ci è andata bene nel senso che siamo riusciti a implementare correttamente l'algoritmo di solito non succede mai al primo colpo però siamo riusciti a ottenere correttamente i tre anagrammi della parola dog e a questo punto una volta che abbiamo il metodo lo possiamo replicare anche per altre parole più lunghe anziché dog possiamo fare l'anagramma di programmazione che è una parola molto più lunga e ci fidiamo del fatto che il nostro algoritmo ce la faccia ovviamente ci sta mettendo un po' di tempo in più perché dovrà fare un insieme di chiamate molto maggiore quanto tempo in più ci mette questa sarà una domanda che ci porremo in una delle prossime due tre lezioni cercare la complessità quanto mentre la complessità è la complessità un po' di tempo magari voi avete più pazienza lo fate girare e vedete anche magari prendendo i tempi e quanto ci mette prendiamone uno intermedio magari cinque o sei lettere vacanze visto che ci stiamo avvicinando e vediamo se funziona con una parola un pochino più lunga è di nuovo quasi istantanea e vedete però il numero di diagrammi della parola vacanze è decisamente maggiore la parola vacanze ha sette lettere quindi siamo con sette fattoriali soluzioni quindi la parola di tre lettere ha sei anagrammi e sette fattoriali a memoria ovviamente adesso anagrammi ecco lo stoppiamo gli anagrammi di programmazione e quindi sette fattoriale è cinquemila sono cinquemila parole che sono state trovate cinquemila possibili anagrammi della parola vacanze la parola programmazione non osiamo chiederci quanto sia invece il fattoriale di quattordici ma vedete che il rapporto tra cinquemila e ottantasette miliardi ci fa dire che dovremmo aspettare un bel po' di tempo quanto tempo impareremo appunto a stimarlo un pochino più avanti ma questo già prima l'esercizio nella sua semplicità come vedete sono poche righe di codice che abbiamo scritto l'algoritmo tutto sommato è una permutazione pure semplice ci permette già però di capire che in alcuni casi i problemi gli algoritmi risolutivi con problemi di una certa dimensione hanno dei tempi di esecuzione che non sono mai non sono più istantanei ma diventano rilevanti o addirittura in alcuni casi intrattabili come si dice nel senso che la soluzione si si arriva ma arriverà così tardi che oramai non ce ne facciamo più nulla perché magari siamo già tutti morti adesso non so se in questo caso probabilmente no ma altri tipi di algoritmi invece avranno dei tempi di esecuzione delle centinaia di milioni centinaia di milioni di anni per cui veramente la soluzione non ci interesserà più ovviamente noi dovremmo evitare di creare algoritmi di questo genere ma imparare a riconoscerli in qualche modo e se possibile un pochino evitarli però per ora stiamo solamente giocando con le basi però anche con queste basi una cosa apparentemente innocua come fa milinegrammi di questa parola in realtà ci ha fatto già subito sbattere contro un muro del tipo quanto tempo ci metterà riuscirà mai a farcela a queste due domande oggi non abbiamo risposta però questo non non ci vieta di essere riusciti chiaramente a costruire questo questo algoritmo usando lo schema mentale della ricorsione che abbiamo usato anche le volte scorse ecco se volete divertirvi io vi posso proporre alcune piccole estensioni a questo a questo problema ad esempio una molto diciamo così facile e diciamo viene bene in questo punto del corso far sì che gli anagrammi siano solamente parole valide cioè parole noi abbiamo nei laboratori giocato con un database che contiene le parole della lingua italiana o anche le parole della lingua inglese allora possiamo evitare di restituire come output del programma delle parole che non hanno senso e che non esistono nel dizionario e questo lo posso fare in due modi uno facile e uno meno facile quello facile è nel caso terminale alla fine della ricorsione controllo il dizionario quindi questo in pratica cosa significa che qua ci aggiungo dove siamo nel caso terminale ci aggiungo una if dirò se la soluzione parziale è nel dizionario quindi se è un contents qualcosa di questo genere allora l'aggiungo altrimenti la ignoro fine quindi l'ho calcolata ma poi non me la salvo perché non è utile non è una parola valida però in ogni caso l'ho calcolata quindi gli 87 miliardi di permutazioni le ho calcolate tutte e di quegli 87 miliardi la grandissima maggioranza verrà buttata via perché non corrisponde a parole realmente del dizionario e posso fare di meglio? beh per fare di meglio dovrei ad esempio fermare la ricorsione prima torniamo alla slide se mi accorgo che non c'è nessuna parola che inizia con dg ad esempio allora non ha senso che io vada avanti non ha senso che io vada avanti e potrei fermarmi già a questo livello a questo livello vedo dg e posso già a questo livello consultare il dizionario e il dizionario mi dice che non c'è nessuna parola che inizia con dg nel mio caso della parola programmazione magari non c'è nessuna parola che inizia con rm o pz ad esempio allora a questo punto nessuna parola tra l'altro di 14 lettere che inizia con pz allora a questo punto io potrei fare una cosa molto migliore cioè non generare soluzioni che sicuramente non portano a un risultato cioè quando io qua provo a generare il tentativo mi chiedo il dizionario if nel dizionario esiste esistono delle parole che iniziano con tentativo cioè le cui prime lettere sono uguali alle lettere di tentativo ricordiamoci che la parola la costruiamo dal sinistra verso destra allora se sì allora vado avanti e faccio la chiamata ricorsiva altrimenti non faccio la chiamata ricorsiva mi fermo prima mi fermo magari a livello 2 livello 3 livello 4 la ricorsione perché tanto so che se io andassi avanti proverei milioni o miliardi di combinazioni nessuna delle quali mai sarà nel dizionario e quindi arriverò tantissime volte a credo terminale dicendo hai fatto un lavoro inutile quindi ovviamente se io posso accorgermi preventivamente del fatto che una soluzione non è valida o una soluzione parziale non è valida nel senso che non potrà mai portare a una soluzione totale valida posso bloccarmi prima e bloccarmi significa semplicemente non scendere nella ricorsione in quel ramo che so già che non porterà frutti quindi nel caso in cui io abbia come in questo slide dei criteri in più che mi distinguono parole anagrammi validi d'anagrammi non validi allora lo posso fare ovviamente se mi chiedono dammi tutte le permutazioni possibili non posso fare altro che generarle tutte ma qualora invece le possa alcune siano validi altre non siano validi allora prima mi accorgo che un determinato ramo della ricorsione non porterà mai a nulla di buono meglio meglio è prima mi posso fermare e non risparmio una chiamata ricorsiva ma risparmio quella e tutti i milioni e miliardi di chiamate sottostanti dell'albero di ricorsione sottostante ovviamente questa operazione costa perché è facile controllare se una parola esiste nel dizionario lo metto in un set chiamo la funzione contents lui mi calcola la funzione di hash della stringa e mi dice subito se c'è o no è un'operazione che prenderà qualche microsecondo cercarsi nel dizionario ci sono delle parole che iniziano non sono uguali ma iniziano con le stesse lettere della mia soluzione parziale beh questo qua significa andare a fare un confronto tra sottostringhe di un dizionario che potenzialmente è centinaia di migliaia di parole allora questo porta via molto tempo di esecuzione e quindi avremo un trade off tra dire spendo più tempo a cercare di essere intelligente nella ricorsione e non scendere dove non serve versus cerco di bloccarmi prima e quindi risparmio molte chiamate ricorsive successivamente ovviamente a questo trade off non c'è una regola unica non c'è una risposta unica bisognerà valutare di caso in caso facendo anche delle prove degli esperimenti quale conviene quanto conviene andare in profondità ok una seconda una seconda complicazione di questo algoritmo che vi propongo è quella di tenere conto delle lettere duplicate quindi ad esempio sis cioè mari contiene due volte la s allora se io le colorassi di colore diverso le due s la prima e l'ultima cioè la prima rossa e l'ultima blu vedrai che questa parola e quest'altra sono in realtà sembrano diverse no? sono colorate in modo diverso ma in realtà la parola è la stessa allora se la parola è la stessa in realtà io non dovrei ripetere due volte allora come faccio a non ripetere due volte anche qua ho tanti modi il modo più semplice più banale ma anche quello più costoso dal punto di vista del tempo di esecuzione è quello di generarle comunque tutte e nel momento in cui l'aggiungo controllo se è ripetuta o no cioè di nuovo agisco nel caso terminale e dirò se è parziale è già presente nella soluzione if parziale non è presente nella soluzione allora la aggiungo quindi ogni volta la calcolo le calcolo tutte e se trovo una soluzione ma mi accorgo che questa era già nella lista vabbè allora evito di evito di aggiungere una seconda volta quindi questa anziché una lista basterebbe che questa anziché una lista fosse un set e automaticamente non mi aggiunge dei duplicati ovviamente il lavoro l'ho fatto lo sforzo l'ho fatto sono arrivato al valore finale e quella soluzione è semplicemente la scarto quindi in realtà il tempo di esecuzione che ci metto è esattamente lo stesso viceversa dovrei fare ma questa è una cosa più complicata la vedremo magari in altri esercizi internamente trattare lettere duplicate vincolando l'ordine cioè va bene vanno bene tutte le combinazioni purché la s rossa venga sempre prima di quella azzurra quindi possono essere messe in posizioni diverse ma io non accetterò mai quindi non farò ricorsione sulle soluzioni in cui la s blu viene prima della s rossa allora a questo punto vorrà dire che il mio vettore di lettere candidate nella mia lista di lettere candidate non mi basterà avere solamente un elenco di caratteri ma mi servirà qualche cosa in più che mi permetta di distinguere tra di loro le due s le due lettere doppie doppie o triple o può esserci anche più di una lettera doppia pensate una parola semplicissima in italiano che è mamma che ha solamente due lettere però ha tre m e due a e quindi devo fare attenzione anche qua di gestire casi lettere doppie casi lettere triple e il caso di più lettere diverse entrambe le quali siano ripetute nella stessa parola quindi un esempio che è un problema che sembrerebbe semplice o meglio si risolve in modo semplice con questo modo nel punto 2 ma per risolvere in modo più efficiente cioè evitare di generare i doppioni nel caso generale vedrete che è abbastanza complicato ci dà parecchi grattacapi ma noi per ora come dicevamo ci accontentiamo di questa prima soluzione che funziona nel caso base vi consiglio sicuramente a livello di esercizio di provare a verificare a incrociarla con il dizionario che ovviamente è una cosa semplice non c'entra più nulla con la ricorsione ma è un po' di allenamento rispetto all'interazione col database che abbiamo visto nell'altra parte dei corsi e con questo concludo questo esercizio che come al solito troverete sulla pagina guitarra del corso